Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Nella lezione di oggi andremo a parlare delle strutture. Che cosa sono le strutture? Sappiamo che in Solidity ci sono diversi tipi di data types. Per esempio ci sono le stringhe, ci sono gli address, ci sono gli assign integers e così via. Tuttavia a volte vorremmo poter creare un data type più costumizzato e per fare ciò possiamo utilizzare le strutture. Cerchiamo di capire un attimino come sono fatte queste strutture. Beh è semplice, in Solidity esiste un comando che si chiama struct che ci permette di definire quale sarà il nome della nostra struttura quindi del nostro fra virgolette data type è una terminologia impropria ma è giusto per far passare il concetto e poi all'interno andremo a definire quali sono le caratteristiche di questa struttura. Ad esempio immaginiamo di avere una struttura che si chiama player, un giocatore. Il giocatore avrà un nome, avrà un indirizzo perché è colui che utilizza lo smart contract ad esempio e poi avrà un numero di goal. Quindi questo è lo scheletro o il template della nostra struttura. Di conseguenza possiamo fare delle operazioni su questa struttura possiamo andare a creare delle nuove variabili possiamo andare a leggere il contenuto delle variabili a fare l'update o a cancellarle. Bene, proviamo a vedere come creare delle nuove variabili basate sulla struttura appena creata. Beh, è abbastanza semplice in Solidity è sufficiente chiamare la struttura player e all'interno andremo a passare i parametri associati al template che abbiamo appena generato. Quindi diremo che il player numero uno si chiama Messi il suo indirizzo è l'indirizzo di colui che utilizza lo smart contract e poi avrà 40 goal. Questo è un metodo per poter definire una nuova variabile basata su questa struttura in alternativa si può utilizzare un'altra notazione che ci permette di avere più flessibilità sull'ordine degli inputs delle caratteristiche della struttura quindi potremo prima definire il numero di goals poi il nome del nostro giocatore e infine il suo address quindi basta specificare le keywords che vediamo qua che sono state definite all'inizio. E poi, vabbè, è giusto per completezza possiamo dire che quando andiamo a definire una nuova variabile dovremo anche andare a specificare che stiamo utilizzando una struttura in particolare il nome della struttura player poi andremo a dire che è una variabile di tipo memory nei video successivi andremo a capire cosa significa memory o ad esempio storage e così via e poi il nome della variabile infine per leggere i valori è molto semplice basta chiamare la variabile ad esempio player numero 1 che l'ha messi e fare punto numero di goals e il suo valore dovrebbe essere 40 nella stessa cosa si può fare l'update della variabile semplicemente chiamando player.goals e riassegnando un nuovo valore infine possiamo cancellare questa variabile scrivendo semplicemente delete player bene, andiamo ora avanti e facciamo un esempio un po' più concreto quindi apriamo Visual Studio Code cancelliamo il contenuto dello smart contract in modo tale che abbiamo il solito scheletro per iniziare e faremo il seguente esempio scriviamo struct poi il nome della struttura in questo caso player poi parentesi graffe e all'interno scriviamo le sue proprietà quindi ogni giocatore avrà ad esempio un nome un name e poi un numero di goal ok? quindi una size integer e lo chiamiamo goals facciamo un esempio molto semplice giusto per capire come si creano le strutture e come interagire con esse bene a questo punto cosa facciamo? beh, le strutture devono essere utilizzate all'interno di una funzione quindi creiamo una funzione function e la andiamo a chiamare add player ok? quindi questa funzione verrà chiamata dall'esterno quindi è di tipo external e come input parameters avremo che cosa? beh, una stringa che assegnerà il nome del giocatore e poi avremo un unsigned integer che è pari al numero di goals del nostro giocatore qua vediamo che abbiamo un problemino dice data location must be memory or call data for parameter in external function ok? quindi dobbiamo assegnare memory oppure call data in questo caso scriveremo call data se non capite il perché lo vedremo comunque nei prossimi video no worries ottimo ora cosa fa questa funzione? quindi prende in input il nome e il numero di goal del giocatore e lo fa assegnare alla variabile giocatore che creiamo adesso quindi proprio come abbiamo visto qualche istante fa scriveremo player quindi stiamo chiamando una struttura scriveremo memory perché la vogliamo salvare nella memoria e poi scriveremo player un player generico un giocatore e scriveremo poi ancora player che è il nostro nuovo data type fra virgolette e diremo che il nome è pari a underscore name e il numero di goals è pari a underscore goals non dimentichiamoci il punto e virgola ottimo ora proviamo a portare la nostra funzione uno step più in là e possiamo fare la seguente operazione potremmo provare a creare un array di strutture in modo tale che ciascun elemento dell'array quindi del vettore ottiene le informazioni relative ad un giocatore come possiamo fare ciò? beh creiamo il seguente array e diremo che player poi ci mettiamo le parentesi quadre è uguale a players dove players è appunto un array ora se questa notazione vi sembra strana beh andiamo a vedere in realtà come definivamo i vettori nei video precedenti se andiamo negli appunti e cerco array eccoli qua vedrò che nel caso proprio più semplice possibile avevamo definito un array come il data type seguito dalle parentesi quadre e poi dal nome dell'array stesso e esattamente facciamo la stessa cosa qui avremo il nostro data type nuovo player seguito dalle parentesi quadre più il nome dell'array e che facciamo è molto semplice andremo ad aggiungere all'array players il singolo giocatore e questo si può fare molto semplicemente scrivendo players punto push e andiamo ad aggiungere player all'array bene ricordiamoci che se vogliamo interagire con l'array dovremmo far sì che sia una variabile di tipo public quindi dovremmo scrivere public prima di players e adesso siamo pronti a fare il deployment del nostro smart contract quindi sulla console andremo a scrivere truffle migrate e a me piace scrivere ogni tanto reset in modo tale che sono sicuro che il deployment viene effettuato correttamente bene attendiamo qualche istante ed eccoci qua lo smart contract è stato deployato correttamente perfetto adesso apriamo la console di truffle quindi truffle console e andremo ad estrarre il contenuto dello smart contract per fare ciò scriviamo il nome dello smart contract quindi my contract punto deployed poi scriverò then function quindi questa è una promise di javascript e come al solito scriverò contract uguale a di ok qua c'è un errore con le parentesi vediamo sì il punto virgola va all'interno delle parentesi graffe ebbene a questo punto scriverò contract esattamente quello che volevo vedere abbiamo players che è l'array ed è visibile appunto perché è una variabile di tipo public e poi abbiamo la funzione add player definita qui che è external molto bene proviamo ora ad utilizzarla quindi scriviamo contract punto add player e il nostro giocatore in questo caso sarà messi e assegnato quanti 40 gol esatto transazione andata a buon fine aggiungiamo un altro giocatore ad esempio ronaldo 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 fatto non so 44 val ottimo andiamo a controllare se questi valori sono stati salvati all'interno dell'array quindi scriviamo ancora contract punto players vediamo cosa succede se scrivo solo questo ok dice che la variabile esiste andiamo a pescare il primo elemento esattamente scrivendo parentesi tonde 0 vedo che il primo elemento è messi messi ha segnato 40 gol perfetto vediamo se esiste un secondo elemento all'interno dell'array esattamente vediamo che abbiamo ronaldo con 44 gol quindi siamo contenti soddisfatti e missione compiuta prima di concludere vorrei farvi notare una cosa extra ossia che si possono combinare anche i mapping con le strutture i mapping erano stati definiti in precedenza e possiamo dire che la nostra variabile di tipo mapping prende come input un address e associa adesso che cosa una struttura quindi qua possiamo vedere che possiamo creare il nostro la nostra variabile di tipo mapping e a ciascun address verrà associato una variabile che è stata generata dalla struttura ok quindi provate a casa a fare questo esempio e vedere se riuscite bene come sempre vi ringrazio per l'attenzione spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto iscrivetevi lasciatemi un like e se volete supportarmi o contattarmi trovate tutte le informazioni nella descrizione di questo video perfetto ci vediamo alla prossima lezione ciao